come ragazza. Mentre slitta la discussione in aula sul decreto carceri c'è un altro suicidio in cella, il 61esimo dall'inizio dell'anno a Rieti. Sentiamo Patrizia Senatore e poi l'intervista di Riccardo Porcuo all'avvocato Paola Severino che con la sua fondazione da tempo lavora per il reinserimento dei detenuti. Aveva solo 25 anni ed era in attesa di giudizio. Era tra coloro che la scorsa settimana avevano portato avanti una protesta nel carcere di Rieti che ha un tasso record di affollamento. La media nazionale è drammatica e arriva al 130%, a Rieti è il 170%. Cioè dove dovrebbero stare 280 persone? Ce ne sono 492. Il 25enne era uno di questi, protestava per le condizioni disumane delle carceri che non permettono né il recupero né il futuro. Questa mattina si è impiccato e la 61esima persona che dall'inizio dell'anno si è tolta la vita in carcere. Era in isolamento per un provvedimento disciplinare perché ieri aveva avuto un diverbio con un poliziotto. Non abbiamo mai avuto così tanti suicidi. Questo è l'indice di una condizione di particolare sofferenza nelle carceri italiane determinata certamente dal sovraffollamento e dalla scarsità di risorse sia di personale sia di attività che si svolgono in carcere. Intanto slitta la discussione in aula sul decreto carceri dopo le spaccature dentro la Commissione Giustizia al Senato con le opposizioni che parlano di un provvedimento inutile e pilatesco. Gli istituti scoppiano, troppe persone, troppo caldo e i gesti di autolesionismo, i suicidi e le rivolte sono in aumento. Tra i motivi ce ne sono alcuni che fanno riflettere. A Velletri i detenuti non possono comprarsi con i loro soldi dei ventilatori perché l'impianto elettrico dell'Istituto non consente l'utilizzo di ventilatori in celle sovraffollate con 40 gradi. 61.000 detenuti su 47.000 posti disponibili vuol dire un affollamento terribile. È una situazione alla quale bisogna trovare un rimedio perché la civiltà di un paese si misura anche attraverso la civiltà di un carcere. Lei professoressa è stata Ministra della Giustizia e conosce benissimo le difficoltà e i problemi del sistema carcerario italiano. Adesso il decreto è al Senato. Su cosa si deve intervenire? Credo che si debba investire moltissimo sui giudici di sorveglianza. Il giudice di sorveglianza è una cerniera fondamentale tra la detenzione e la libertà. La pena non deve soltanto sanzionare ma deve anche rieducare. E allora il numero dei rieducatori è davvero poco significativo in un carcere. Sono spesso dei giovani, 39 anni, l'età media, che entrano in carcere e si suicidano, si tolgono la vita nei primi sei mesi o poco prima di uscire. Lei, con la sua esperienza, anche per quello che fate come fondazione, che cosa bisogna fare, che strumenti bisogna fornire a queste persone per evitare che si tolgano la vita? Il mio primo suicidio, così lo chiamo, quando ero ministro, mi sembrò un fallimento tremendo. È ovvio che i suicidi si possano verificare poco prima dell'uscita. È un momento che a noi può apparire di grande gioia, al detenuto appare di grande smarrimento. La recidio si abbatte dal 75 al 2% circa, quando si dà una opportunità lavorativa a chi esce dal carcere. Proprio per questo, con la nostra fondazione, creiamo delle opportunità lavorative. Trovano tutti lavoro all'uscita dal carcere.